Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Centro di Creazione Mii. Allora signori, in questa puntata creeremo il ninja. Allora, dovremo innanzitutto prendere una figura maschile e scegliere la faccia tonda, la seconda appunto faccia. A questo punto andiamo agli effetti speciali. Come effetti speciali, guardate, ci sono un sacco di cose carine da mettere, che ancora veramente devo trovare, ma penso di mettere queste cose che rendono più scuri gli occhi e comunque danno un senso di profondità aggiuntivo. Poi mettiamo il secondo colore, questo colore così è un po' più scuro. Andiamo ai nostri capelli, qua dobbiamo andare ben oltre ai capelli maschili. Andiamo dritti alla settima pagina, scegliamo la seconda riga e la terza colonna. Vedete questo caschetto? Chiaramente lo dobbiamo fare di un colore nero. Non vi preoccupate, vedete, se controllate bene, sembrerà proprio il caschetto di un ninja, o comunque il suo cappuccio. Adesso andiamo alle sopracciglia. Allora, come sopracciglia mettiamo quelle normali, mettiamole di un colore nero. E adesso dovremo parecchio stravolgerle. Infatti, che cosa dobbiamo fare? Andiamo subito ai nostri ingrandimenti. Quindi, ingrandiamo di tre, uno, due, tre, molto bene. Da quando ho scoperto che si può semplicemente cliccare e non trascinare, mi si è aperto un mondo. Ingrandiamo di tre e avviciniamo al massimo le sopracciglia. Ok, facciamo, vediamo un po', uno e due. Le abbiamo avvicinate al massimo. E adesso abbassiamole di due. Uno, due. Molto bene, andiamo ai nostri occhi. Andiamo subito alla nostra terza pagina. Seconda riga. E prima colonna. Questi occhi così molto sottili. E sempre in stato di allerta. Adesso mettiamo il colore verde. Che comunque è sempre un colore bellissimo. Rimpiccioliamo gli occhi di uno. Così da renderli anche un po' più adatti al viso. E separiamoli di due. Uno, due. Molto bene. Andiamo adesso al nostro naso. Come naso mettiamo... Vediamo un po' questo naso. No, di certo non va bene. No, vabbè, sarebbe troppo una figura comica. Ma mettiamo questo naso qui, a triangolino. Adesso lo dobbiamo ingrandire al massimo. Così, vedete. E dobbiamo però, dobbiamo alzarlo di uno. No, così. Lo abbasso, lo alziamo di uno. Perfetto. Andiamo alla bocca. Andiamo subito alla nostra seconda pagina. Andiamo alla terza colonna, alla prima riga. Questa bocca qui, così sottile. Vediamo un po'. Secondo me dobbiamo un pochino ingrandirla. Infatti è troppo sottile. Ingrandiamo tutto al massimo. Non vi preoccupate, non vi spaventate. Poi cambierà. E alziamo di uno. Molto bene. Vediamo un po' però se non ho sbagliato la bocca. Perché la cosa mi puzza alquanto. Vediamo un po' questa qui. Ma no, perché poi sarebbe troppe figure geometriche. Bah, terza colonna, prima riga. Sì, è per forza questa, signore. Lasciamo questa qui. Beh, vediamo un po' se cambierà. Anche se il naso mi sembra troppo basso. Comunque, andiamo subito agli effetti speciali ai nostri occhiali. Mettiamo gli occhiali scuri. Ecco, forse questi qua neri. E adesso con questi occhiali dobbiamo ingrandirli di uno. E abbassarli al massimo. Molto bene. Andiamo ora alla nostra bella barba. Una barba folta folta di colore nero. E come potete vedere, signori, forse no, non questa. Questa barba più completa. O forse questa, questa, questa. Sì, deve essere, signori, per forza questa qui. Questa più su no, perché non gli coprirebbe metà del viso. Dobbiamo per forza mettergli questa barba. Vediamo un po', signori. Quale potrebbe essere la più adatta? Questa barba, no, non mi convince per niente. Orse magari ingrandiamo un po' più gli occhiali. No, così troppo grandi è veramente sproporzionato. Sì, così, signori, va bene. E il problema è che il ninja deve essere con gli occhi, con comunque metà del viso coperto. Quindi penso che la scelta più appropriata sia questa, perché ricopre il viso di un colore nero e non si dovrebbe vedere. Forse questa? No, tra tutte le barbe, signori, questa penso sia la migliore. E abbiamo creato così, signori, il nostro ninja. Andiamo a creare la nostra altezza. Direi che comunque i ninja non sono bassi, ma neanche troppo alti. Ed è sicuro comunque sono figure longilinie. Mettiamogli il colore nero e leviamolo dai preferiti. E a questo punto, ninja. Molto bene, signori. Abbiamo creato un altro personaggio da introdurre nella nostra vetrina. Condividiamo questo mi. Molto bene. E salviamolo nella nostra vetrina. Vediamo un po'. Ecco il nostro ninja. Guardate, dopo la nostra nana degli ice climbers con la testa piegata, non c'è successo nient'altro. E per questa puntata di Centro di Creazione Mi è tutto. Ci vedremo alla prossima puntata.